L'amarezza per il passo falso che ha macchiato l'esordio della Leo Schuss per Chinelmer è alle spalle e la partita di Monza si è trasformata in un nuovo punto di partenza. Modena affronterà due fine settimana senza gare ufficiali per tornare in campo il 30 al Palapanini contro Vibo, una lunga attesa che la squadra di Gianni dovrà sfruttare al massimo per lavorare sull'intesa. È una squadra nuova che tutti non abbiamo mai giocato insieme quindi cada uno di noi dobbiamo stare in testa che dobbiamo fare meglio. Gianni, il nostro allenatore, ha parlato ieri sera con tutti noi che dobbiamo fare e quindi credo che questo è bello, perdere sempre è bello perché se vince tutte le partite tu non sai come stai. Un capocolo di Monza figlio di una chimica ancora da trovare ma anche di amnesie ed errori individuali che i singoli tasselli del nuovo mosaico giallo-blu dovranno sistemare nel più breve tempo possibile. Gianni ha detto che dobbiamo lavorare primariamente individuale principalmente nel punto finale e dopo pensiamo alla squadra perché dobbiamo tenere due sistemi di gioco che si gioca a parabolo quindi individualmente in congiunto e quindi dobbiamo fare in questi 20 giorni tutte le due cose. Nel giorno della presentazione del secondo anno di partnership con il gruppo LB Technology, Ioan Di Leal trova il lato positivo anche dalla lunga pausa senza gare ufficiali. Per noi è bello, per noi è bello perché dobbiamo lavorare, però noi l'atleta dobbiamo giocare sempre, poi siamo accostumbrati, dobbiamo giocare ogni domenica, possiamo giocare, però diciamo che prendiamo questa situazione dei 20 giorni per ricominciare il nostro campionato. Grazie! Grazie! Grazie a tutti